Bene ragazzi, allora siamo pronti a questo punto, siamo pronti e naturalmente dico benvenuto a Italia e benvenuti a Spagna, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao, ciao a tutti, benissimo, intanto vedo che molta gente sta continuando ad entrare, d'accordo, si perde qualche cosa ma dobbiamo iniziare puntuali. Non so che le persone continuano entrando, intendo che si vanno a perdere qualcosa, però ci sono molte cose da dire, abbiamo che seguire ad avanti. Ragazzi, dopo un'estate molto poco bollente, poco, prepariamoci a un autunno rovente, ma di fuego vero, caliente, 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 in primis, in primis, ascoltate bene, scusateci, scusateci, ripeto scusateci per tutto quanto ancora è da sistemare. Lo so, ci sono diverse cose, noi ogni giorno facciamo progressi, ogni giorno noi facciamo progressi, noi all'interno. Ma in tante parti che abbiamo ormai in tante parti del mondo, Stati Uniti, Germania, Cina in particolare, in estate hanno fatto un po' di vacanza. E quindi tante cose che avremmo voluto fare ad agosto non abbiamo potuto ultimarle. Abbiamo potuto iniziarle, ma non ultimarle. Ci assumiamo la responsabilità e chiediamo scusa. Peraltro, nonostante questo, abbiamo fatto ulteriori passi avanti per essere veramente pronti entro fine settembre. E lo saremo senza altro. E sicuramente lo saremo. E certamente siamo fici di aver visto quello che accaduto nel mese di agosto. Perché pur in un momento in cui non tutto era pronto, Signori, abbiamo superato i 5.000 tornei completi su Golf Football Game. Esattamente, hace 5 minuti stavamo, puoi dire tu il numero? Direi pure tu? Ok. Così, la prossima settimana non direi cazzate. Allora... E ciò 5.341 torneos. 5.341. Allora, signori, attenzione, la prossima settimana i vincitori riceveranno una mail con una coppa digitale che potranno ottenere per loro, per ogni torneo vinto. Eccola qua. Quindi, la prossima settimana una mail lo vanno a ricevere tutti i vincitori con questa coppa digitale. Cada vez che uno gana la coppa va a ricevere un'email con questa immagine. Vi piace? Os gusta? Os gusta la coppa? Così la mettete sui social. E poi, inoltre, signori, sono arrivate le classifiche. Arrivano le classifiche... Le classifiche aggiornate, aggiornate, a mezzogiorno di oggi. Saremo già la classificazione attualizzata al mediodia di oggi. E llegan las tablas de classificaciones. E sul sito MyGoalFootball trovate i primi cinquanta in classifica. Cinquanta. Qua vi faccio già vedere i primi dieci in classifica, sia per tornei vinti che anche il rapporto nella classifica successiva sui tornei giocati. Per i tornei vinti, al decimo posto, Giovanni, nono, Manuel, ottavo, Osè, settimo, l'altro, Osè, sesto, Oscar, quinto, Alberto, quarto, Alberto. Migro, terzo, un altro, un altro, secondo, Paolo, è al primo posto con 73, tornei vinti, Fulvio, e non dico il cognome perché diciamo sui nomi per la privacy. Bravi a tutti quanti, bravissimi. Poi la seconda classifica sarà sui tornei vinti rispetto a quelli giocati. In questo caso c'è chi non ha giocato dieci in realtà in classifica, faremo vedere solo chi avrà giocato almeno dieci tornei. Questa è una tabla di classificazione dove si calcola con un minimo di dieci tornei jugati la porcentà che dello sganato rispetto al partito hecho. Come potete vedere la classificazione cambia e al primo posto sta una tal Maria. Maria Elena al primo posto e Mirko al secondo, Rogers al terzo, Fulvio al quarto, Emilia al quinto, Marco al sesto, Susanna, Rocco, Osè e Alberto. Questa è la dimostrazione che le donne sono superiori agli uomini anche nel football. Questa è la dimostrazione che la smuchere ha sido superiore allo sonno nel football. Le donne sono più bravi, orca miseria! Bene ragazzi. Devo dire che ci stiamo divertendo molto. Devo dire che ci stiamo divertendo molto. E attenzione, come fra poco capirete ragazzi, sta nascendo un'azienda veramente straordinaria. Come dentro di poco intenderei, è stata straordinaria. E voi ne siete protagonisti in pieno. Siete voi i protagonisti di questa azienda, non noi, voi. I vosotros sois totalmente los protagonistas. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo fatto in questo mese d'agosto e soprattutto cosa faremo entro la fine di questo mese di settembre, che sta per iniziare. Ora vamos a ver todo lo che hemos hecho dentro de este mese d'agosto y vamos luego a ver todo lo que se hará aquí al final de settembre. E voi capirete da soli, sapendo i fatti, quanto abbiamo fatto in questo mese in cui si è visto ben poco. Quindi vosotros entenderéis por vosotros mismos quanto mucho trabajo se ha hecho en este mese d'agosto y los he hecho hablan más que las palabras. También, si no nos habéis escuchado, ha sido hecho un grandísimo esfuerzo, un grandísimo trabajo. Voglio coprire tutti i punti, per cui posso parlare poco per ogni punto. Le dico una alla volta. Chiedo cubrire il tempo, dedicare un poco di tempo a todo lo spunto. Lo resto non le puedo dedicare demasiado tempo, però chiedo mostrarlo todo, uno alla vez. Tutto quello che dico lo abbiamo fatto adesso, in questo mese di agosto, dal giorno del miti nazionale ad oggi. Todo lo que vuoi ora mostrare lo hemos hecho en este mese d'agosto y después del miti nazionale hasta hoy mismo. E quello che sta per accadere è cento volte superiore a quello che voi pensate. Cento volte. Y lo que va a ocurrir es cien veces superiore a lo que vosotros podéis pensar en vuestros pensamientos más optimistas. Cien veces más. Area generale. Abbiamo iniziato a risolvere i disservizi che abbiamo avuto con GIFT a fine luglio. Non so se vi ricordate, c'era stato un grosso problema con GIFT. Lo ricordate? Soluzionato los problemas con los GIFT Certificate que hemos tenido a final de julio. Si acuerda, esto ha sido soluzionado. Siamo intervenuti. Abbiamo risolto. Hemos intervenido e lo hemos soluzionado. Abbiamo creato la procedura di iscrizione rapida. Hemos creato il procedimiento di iscrizione rapido. De forma rapida. E se voi pensate che queste cose siano rapide da risolvere, non è così. E se vosotros pensate che queste cose se possono soluzionare rapidamente o os equivocais. Perché non è così. Sono giornate di lavoro, mail in arrivo e in uscita, discussioni, rime su un coro e corazione. Sono ore di lavoro, mail in entrata, in salita, discussioni, fino a che si possano soluzionare. Abbiamo messo a punto gli strumenti social, radio e tv. Hemos activado la serramenta social, radio e televisione. E qui gradirei un grande applauso al nostro publisher Rocco Campa, che veramente sulla tv ha fatto un lavoro straordinario. Un grande applauso a Rocco Campa. A chi mi resta un grande applauso a Rocco Campa, che per il tema della televisione ha hecho verdaderamente un straordinario trabacco. Inhorabuena Rocco. E guardate che noi sulla televisione stiamo facendo già dei numeri molto, molto interessanti. E mirad, ricordate che nosotros sopra la televisione stiamo facendo già numeri muy, muy interessantes. E se stanno viendo... Se voi prendete l'abitudine di entrare sull'area tv, scoprirete dei filmati stupendi, proprio stupendi. Vosotros os acostumbréis e acostumbréis vuestro equipo a entrare nella zona della televisione. E hai películas muy, muy bonitas, fenomenales, che podéis ver constantemente. E anche il nostro social network adesso sta nascendo su serio. E anche il nostro social network, ora, sta nascendo de verdad. E abbiamo dei bellissimi momenti alla sera in cui si mettono in palio anche dei free tickets per le persone che rispondono nel modo più giusto e più rapido a delle domande. A menudo, in algunos horarios, soprattutto por la tarde-tarde-noce, se hacen bruttas e se ponen in premio free tickets para jugar. E questo sta creando già bastante visitas. Aprovechadlo todo e haced che lo aprovechen vuestros equipos, perché ademais apprenden informazioni importanti. Ricordatevi, il social è un'area che, se noi ci concentriamo, diventa un'infinità per tutti noi. Ricordatevelo. Ricordatevi, ricordatevi che il social è un'area che, se noi ci concentriamo, si va a incovertire in algo che, per noi, valdrà una infinità. E, chiaramente, quando dico «nosotros» è per tutti. Quattro, abbiamo variato la fase 1 di Golf Football Game senza problemi particolari. Hemos lanzado la fase 1 di Golf Football Game sin ningún problema. Io so che alcuni dicono «Va bre», è normale. Non è normale, credetemi, non è normale. Io so che alcuni dicono «Es normale che non hai passato ningún problema». Mentre io scontesto che non è così. Non è normale che non hai passato ningún problema. Chi pensa così non sa niente di informatica. Niente. Chi pensa così non sa assolutamente niente di informatica. Far giocare così tante persone, tanti tornei, dal giorno uno, senza mai avere un problema, è una cosa enorme. È enorme. Per giocare già tre del primo giorno, dopo il lanciamento, così tanto torneo, con così tante persone, senza nessun problema, è qualcosa di veramente assombroso. 5.000 tornei, 5.000. 5.000 tornei fatti in meno di un mese. In meno di un mese. Ragazzi, è veramente il migliore inizio che potevamo avere. Signore, è veramente il migliore comienzo che avremmo potuto avere. Non abbiamo sistemato, ma abbiamo iniziato a sistemare l'Unilevel. Iniziato. Noi abbiamo ancora acabato di arreglarlo, però già abbiamo avanzato molto per arreglarlo definitivamente l'Unilevel. hai solo piccoli dettagli che si stanno definendo. E sono tutti da definire in America, non in casa nostra. E tutto questo è il regolo, lo stanno definendo l'USA americano, non in nostra casa. Sono temi sui dell'informatico direttamente dalla piattaforma americana. Però ci stiamo lavorando ogni giorno. E ogni giorno stiamo migliorando. Cada dia non stiamo dicendo questo, e cada dia sta migliorando la situazione. E sono in lavorazione, già adesso, quello che serve per l'e-wallet. E stiamo già trabajando per l'area generale, lo che è il nostro avanzamento per l'e-wallet. Per i sistemi di pagamento, sia su tablet che per gli strumenti per la red. Per tutto lo sistema di pago, sia in tablet che per la serramenta per la red. E soprattutto sulle procedure di documentazione fiscale. E soprattutto, tema molto importante, per tutto lo sprofidimento della documentazione fiscale. Tutto questo, tutti i punti che vi ho citato, sono solo l'area generale. Solo lo spunto che vi ho citato, sono solo l'area generale. Attenzione! Poi c'è l'area prodotti. Cuidado, perché adesso, prego, hai area produttos. E io vedo che devo accelerare, quindi devo dire di meno, perché altrimenti non ho il tempo di dire tutto quello che ho da raccomparvi stasera. E che tengo che accelerare, però dico las principales. Nuovi moduli di education. Multi permission system. Sondaggi da poter fare in rete su qualsiasi cosa. Possibilità di creazione in landing page facilmente. Possibilità di acquisto traffico sul proprio sito. Nuovo design per tutti i nostri prodotti. E appena ultimate avremo una chiarissima descrizione sul sito di tutti i nostri prodotti. E acaba di ultimarsi una clarissima descrizione nella web di tutti i nostri prodotti. Intanto vi arriva dal lunedì prossimo, in versione inglese dal lunedì, e poi completamente tradotta entro fine mese, ma anche prima, la prima delle integrazioni al PRO e a BANS Comunicato. Sapete che hanno le integrazioni mensili. Passa l'altra, in spagnolo. Scusate. Mientras os liega desde il lunedì prossimo, in inglese, completamente traduzida, la vais a recebire antes del final del mes, la prima delle integrazioni al PRO e all'Advanced Comunicato. Già questo os liega desde il prossimo lunedì. L'Advanced Comunicato, un e-book, networking in qualsiasi industria, come essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Molto carina. Para Advanced Comunicato, networking in qualsiasi industria, come essere la persona giusta, nel sito giusto e nel momento giusto. Per il PRO, Facebook al massimo che si possa utilizzare, soprattutto come advertising. E Facebook al massimo, parolos PRO, è il massimo che si può utilizzare per il tema dell'advertising. Già da lunedì, il prossimo lo avrete in inglese, e poi entro al massimo fine mese tradotto in italiano e spagnolo. Entro il lunedì lo vai a recebire in inglese, e entro al massimo a finale del settembre lo vai a recebire in vostro idioma. E ogni mese vi avrete un'altra integrazione, ogni singolo mese, così come era stato detto, che da settembre iniziavamo. E cada mese vai a recebire lo che abbia sido promettivo, che il terzo settembre, cada mese, vai a recebire una nuova. Questa settimana, oppure la prossima, perché abbiamo gli uffici a Malta chiusi, iniziamo a chiamare tutti per la verifica degli indirizzi, perché non ci scordiamo certamente che dobbiamo consegnare il nostro tablet. Lo sappiamo benissimo. Questa settimana, o al massimo la prossima, perché questa settimana stiamo cercando per la vacazione, iniziamo a chiamare tutti per la controlla delle direzioni. Voi torna indietro? Torna indietro? Ok. Non ci ricordiamo certamente che abbiamo consegnato il nostro tablet. Ok. Arriba anche questo. Che tranquillo è tutto. Che arriva anche questo, tranquillo. Poi, mentre già lavoriamo verso il golf football game della fase 2, da oggi tutti possono cambiare mi claim, anche gli iscritti dal primissimo giorno, che ricordate che non potevano farlo. Ora, mentre già lavoriamo verso la fase 2 del golf football game, stiamo già facendo modificazioni, desde oggi tutti possono cambiare il username del juego golf football game. E vedo che qualcuno, Gianluca, Massimiliano e Alberto, l'hanno già fatto. E vedo che già algunos, Gianluca, lo hicieron. Benissimo. E' un'altra piccola cosa, che peraltro ha richiesto un lavoro molto più grande di quanto avremmo mai pensato. Purtroppo a volte succede. E' un altro piccino dettaglio, che però ha necessitato otro grande sforzo, che era Massimo, che si poteva pensare. Però già lo abbiamo sentito. Pensate che per una stupidata così ci abbiamo messo una settimana di lavoro dei tecnici di Betradar. Una settimana. Pensai che para una tonteria come questa, lo tecnico di Betradar ha necessitato una settimana per arreglarlo. Questo vi serve ragazzi a far capire quanto noi facciamo e quanto ci diventa impossibile purtroppo, purtroppo, fare tutto quello che sappiamo benissimo di dover fare. Ma lo facciamo. Para che entrizzate l'esforzo che stiamo facendo e quanto facciamo di verità di tutto per fare le cose che abbiamo in mente, ma che però avete si richiede tempo e avete il tempo massimo quello che uno puoi da pensare. Se vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo dovuto interrompere GoFootball Game per mezz'ora. Ve lo ricordate? Un'ora anzi. Ve lo ricordate? Accordai, se ha fatto uno sdia, abbiamo sentito che interrompere... Era proprio per questo motivo. Pensate che lui. Era proprio per questo motivo. Allora abbiamo sentito che interrompire una ora proprio presta la sonda. Pensate un po'. Pensate un po'. Va bene. Abbiamo appena pronto il tracking di Dubli. Appena pronto. E speriamo che sia pronto presto. Speriamo. Loro ci dicono di sì, però io ci credo quando lo vedo. avremo i free tickets per comprare nello store. Quindi chi comprerà un prodotto nello store avrà dei free tickets. Chi comprerà prodotto nello store riceverà free tickets. Attualmente saranno basati sulla cifra che lui spende. E chiaramente si baseranno rispetto alla cantidad di dinero che è il gastarato. E quindi i free tickets, ovvero il golf football game, diventano il nostro incentivo assoluto per tutto l'e-commerce. Tutto. Allora, ascoltatemi bene adesso. Ascoltatemi bene che cerco di farvi capire una cosa che ancora non vi ho detto. Ora, ascoltatemi bene perché ora ho intento di esplicare qualcosa che ancora non vi ho comunicato. Fra poco io vi dico che a fine settembre parte una cosa importante. Io dentro di poco vi voglio dire che a fine settembre saldrà al mercato qualcosa di molto importante. E questa cosa farà valorizzare moltissimo i nostri gold coins. E questa cosa farà che quei danni coger di molto valore i nostri gold coins. Immaginate quando uno saprà che se compra qualcosa dal nostro mega store potrà avere dei free tickets. Immaginate quando uno saprà che comprando qualcosa dal nostro mega store potrà avere dei free tickets. Per vincere dei gold coins. Per vincere dei gold coins. Immaginatevi che cosa accade. Io spendo 100. Immaginate anche che può correre. Io spendo 100. 100 ma ottengo anche più di 100 potenzialmente. Io gasto 100 però potenzialmente potrò ottenere più di 100. Che cosa accade. Che occorre. Pensateci un po' voi. Pensate un po' voi. Bene. E quindi andiamo su delle cose ancora più importanti. Ricordate che questo era già il decimo punto e non è finita. L'undicesimo punto è che arriva un nuovo prodotto che in realtà ci hanno chiesto molti di voi. E gli piega un nuovo prodotto, il punto 11, che ci hanno chiesto molti di voi. Tutti quelli in particolare che giocano a golf in the game e si rendono conto di quanto sia importante per ogni nostro nuovo member poter disporre dei free tickets per giocare molto e invitare tanti amici. Sobretodo lo che stanno sfruttando molto del gruppo dei free tickets per giocare molto e invitare tanti amici. Arriva Basic Supreme. Si chiama Basic Supreme. E' Supreme perché raddoppia i benefici di chi lo ha, consentendoli di buttarsi sul nostro incentivo d'oro per l'e-commerce e stimolare al massimo altri a entrare in gioco. In gioco si intende con noi. Il Basic Supreme è come il Basic, uguale, ma ha 100 free tickets in più. Il Basic Supreme è come il Basic, uguale, ma ha 100 free tickets in più. Ricordatevi che per noi i free tickets corrispondono a dei premi. Ricordatevi che per noi i free tickets corrispondono a dei premi. Ricordatevi che per noi i free tickets corrispondono a dei premi. Non costerà 100 euro in più, ma ai 97 euro si aggiungono 83 euro per un totale di 180 euro, IVA inclusa. Darà lo stesso punto commissione del Basic, però non costerà 100 free tickets per un euro uguale a 100 euro massiva, ma costerà 97 euro, ma il totale per arrivare a 180 euro, IVA inclusa. E la persona entrata avrà 100 free tickets. La persona che è entrata, tendrà in mano 100 free tickets per fugare. Questa sera vedrete il nuovo sistema di lavoro e capirete come questa persona si assicura con questi 100 free tickets di duplicarsi immediatamente. Si duplica al 1000%. La gran differenza l'entenderei con il sistema di lavoro perché potete essere sicuro che con questi 100 free tickets questo nuovo membro si duplica al 1000%, con tutta sicurità. Mi piace? Mi piace? Mi piace? Mi piace? Mi piace? Mi piace? Tampoco mi piacerà ancora di più. Dentro di un rato, vi piace molto più. Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Vado avanti! Viamo con pensi! Plan di compensazione, plan di gananze. Il volume a pareggio non dovrete farlo adesso ma lo abbiamo spostato dal primo ottobre. Lo che se diamo a volume mensuale lo abbiamo ritrasato desde l'1 ottobre. Sono stennati. Tieni che c'è un problema. Non sarà più di 5 euro settimanali ma di 20 euro mensili che è la stessa cosa. attenzione! Non sarà di 5 euro semanali ma di 20 euro al mese che è la stessa cosa. e attenzione! Tutto quello comprato precedentemente varrà come qualifica fatta a partire da quel giorno. 5 euro sparisce del tutto. Tutte le regole sono scritte sul web. Tutto quello comprato precedentemente si viene a calcular come qualifica fatta a partire dal primo ottobre. Niente perde nulla. E il dati di 5 euro desaparece come prodotto. nascerà il prodotto da 20 euro antes del finale settembre tendrà un nuovo nome tutte le regole saranno iscritte nella web ricordatevi adesso stiamo dicendo poche cose perché ne abbiamo ancora tante da dire ricordate che ora stiamo dicendo pochi commentari sopra casa, diapositiva perché abbiamo ancora moltissime cose che dire io vi posso assicurare che questo prodotto Basic Supreme diventerà il nostro prodotto per eccellenza e non ci sarà una persona che non lo vorrà Giorgio puoi assicurare che il nostro Basic Supreme si va a convertire nel nostro prodotto numero uno non avrà ne una persona che non lo vorrà e adesso capirete già perché dal nostro sistema di lavoro e ora intenderai già perché grazie a nostra area sistema di trabaccio con l'avvento di Golf World Game che è l'incentive di eccellenza abbiamo un nuovo sistema di lavoro con la legata del Golf World Game Incentive che è l'incentive di eccellenza abbiamo creato un nuovo sistema di trabaccio un sistema di trabaccio che è facile rapido efficace duplicabile e per tutti è un sistema di trabaccio facile rapido efficace duplicabile e soprattutto che è adatto per tutti e vi posso giurare che questo sistema di lavoro è più facile e più efficace di quello che all'epoca utilizzai quando facciamo numero immensi e vi posso giurare che questo sistema di trabaccio è molto più rapido e efficace di quello che già avevamo quando facciamo i numeri hace unos anni il nostro sistema di lavoro si basa su cinque parole si basa il nostro sistema in cinque parole invita stimola dimostra sollecita guida invita stimola dimostra sollecita e guia invita giochi con me invita juegas conmigo quello che dovete dire a qualunque persona giochi con me fai la partita con me allora lo che tendreis che decir a qualche persona juega conmigo haz un partito conmigo stimola mentre state giocando con la persona chiedeteli ti piace mentre se stai jugando con una persona tenete che stimolarla e preguntarle ti gusta e quando vi risponde di sì e quando scontesta che sì diteli diteli tenete che decirle mentre tu giochi io guadagno ma puoi farlo anche tu mentre tu juegas giocando puoi di esserlo tu tambien però terzo punto dimostra guarda cosa ho fatto io terzo punto dimostra mira lo che c'ho giù e le muestro lo risultato che già è conseguito e gli fate vedere qualcosa dei vostri risultati e le mostrare algo dello vostro risultato le persone che avete convolto i soldi che avete guadagnato se avete già guadagnato quello che avete fatto la persona che avete involucrato le gananze che avete tenito lo che tenete lo che avete conseguito basta che al momento al quarto punto sollecita sollecita nel quarto punto sollecita la persona attivati ti bastano 180 euro attivate sono sufficiente 180 euro e basta senza star lì a spiegare tanto e già sta sin tener che dar demasiate esplicazioni e poi immediatamente guidate la persona scriva subito qualche amico e di forma immediata per guiar la persona lui ha 100 free tickets quindi può invitare chi vuole e tiene 100 free tickets quindi può invitare lo che le dà la gana a todo e quanto vogliamo scommettere che qualcuno di quelli che ha invitato anche lui lo vuole fare quanto vogliamo scommettere quanto queremos apposare che algunos de lo che ha invitato desiderando hacerlo e chi è che non sa fare questi cinque punti invita stimola dimostra sollecita guida guardate cosa bisogna fare e chi è che non sabrà hacer estos cinque punti invita stimola demuestra solicita guia os gusta os gusta è nostro sistema di davvero lunedì prossimo ne parliamo maggiormente il prossimo lunedì sarà un webinar dove si parlerà soprattutto di queste cose adesso devo andare avanti sono in ritardo sappiate che noi stiamo già preparando degli strumenti importantissimi per la presentazione della nostra opportunità tenete che sapere che stiamo già preparando erramiente super importante per la presentazione della nostra opportunità pdf precisi realmente doc entro il 15 settembre video di presentazioni ultra doc entro fine settembre e persino una demo mobile app però qui non do dati di deadline la serramiente che stiamo già preparando pdf preciso e chiaro realmente di gran calidad entro il 15 settembre video di presentazione di massima calidad entro il 30 di settembre e un'applicazione pare il mobile però a chi non podemos dare una feccia esatta augusta mi piace bene deve ancora arrivare la parte importante a un tenemos che legare la parte massi importante abbiamo lavorato ragazzi tutto il mese di agosto e ultimeremo tutto entro fine settembre per il lancio di quanto farà più sensazione tenetevi forte per favore tenetevi forte abbiamo lavorato tutto agosto e acabaremos tutti antes del final di settembre per il lanciamento dello che harà sensazione agarraos muy muy fuerte tenetevi star muy fuerte agarrato a vostra siglia sei pronti? stai listo e preparados? si o no? è qualcosa destinato a toccare milioni di persone in tutto il mondo algo destinato a toccare milioni di persone in tutto il mondo qualcosa che farà del nostro incentive golf football game il più desiderato da tutti da tutti tutti il más deseado de todos da todos qualcosa che vi permetterà di acquisire valore senza fine algo che os permitirà di ad acquerir valore sin fine il primo ottobre signore nasce goal football game exchange l'asta del nostro game 1 di ottobre nasce goal football game che è la subita del nostro juego goal football game exchange goal football game exchange cosa accadrà nell'exchange che tutti potranno acquistare vendere che tutti potranno acquistare vendere giocatori squadre e goal football game player che todos potranno comprare e vendere giocatori equipos e goal football game coin player dal primo ottobre parte in beta per noi ma già dal 15 ottobre è aperta a tutti tecnici permettendo oggi vi dico poche parole lunedì prossimo ne parliamo maggiormente oggi os voy a decir pocas palabras el prossimo lune os dire mucho más oggi è solo un annuncio poi è solo un annuncio che hago una presentazione la fase 2 di goal football game è confermata inizio 2015 sia ben chiaro la fase 2 è confirmata a comienzo del 2015 sia molto chiaro e quindi giocatori si potranno utilizzare solo allora e assic che lo giocatore si potranno utilizzare solo desde aquel momento però dal primo ottobre dal primo ottobre partono tutti al valore di base che tutti potranno comprare sia in euro che in gold coin player e quindi i prezzi già che tutti li devono comprare per giocare nella fase 2 solo salire è vero o no però desde l'uno di ottobre salen todos al valore di base i todos podran comprare 6 euro in gold google game coin player assic che visto che todos necessiteranno los jugadores los prezos podran solo aumentare perché dal lancio signori si inizia con il minimo minimo il più basso che si prendono i primi a prendere i giocatori perché desde il lanzamento si empieza con il valore minimo che cogan los meros a comprare los jugadores perché lo stanno pagando al prezio mas bajo questa non è una previsione certezza è una previsione è una realidad le prime 4 5 mila persone signori impazziranno las primeras 4 5 mil persona enlocheceran basterà che facciano le coni della winning bonus la nostra il nostro incentivo d'oro per ricevere migliaia di golf football player in regalo ad esempio se voi fate sponsorizzate 12 persone voi ricevete 1300 gold coin player ogni settimana che per anno sono oltre 60 mila sono quasi 70 mila gold coin players è giusto? sarà sufficiente che tengano la scondizione della winning bonus per ricevere mille di gold game coin player a chi hai un esempio sempre rispettando la scondizione che hai nel winning bonus ma quando uno llega alla scondizione e ha patrocinato esempio 12 persone ne recibe 1300 e in un anno 1300 por un anno perché sono cada semana sono más de 60.000 golf game coin player signori 60.000 oggi a un centesimo valgono poco 60.000 a un centimo oggi valen muy poco a un euro valgono 60.000 euro a un euro valen 60.000 euro non dico nient'altro no dico nada más non mi dico quanto valgono a 10 euro a 100 euro dico solo un euro non dico quanto puoi valere a 10 euro a 6 euro hablo solo di un euro i gold coin player partono a valore 0,01 un centesimo i gold coin player empiezan da 0,01 centimo e noi lo lo abbiamo recebito gratis dall'impresa è un obbligo perché l'azienda li offre gratuitamente la impresa ricordate che lo sta regalando a todos ma attenzione lo regala fino a che ne disporrà però nadie tiene che olvidarsi che lo va a distribuire hasta quando si agote perché una volta terminati i suoi 100 milioni di gold coin player l'azienda non erogherà mai più un singolo gold coin player gli unici disponibili sanno quelli sul mercato non avessi acabato su 100 milioni di gold game coin player disponibili la impresa non distribuirà nunca mas un unico gold game coin player los unicos disponibili saranno aquellos che stanno nel mercato dal giorno dell'apertura dell'asta tutti vedranno in real time l'andamento dei depositi in azienda in modo ufficiale quindi vedrete 100 milioni erano in inizio quanto saremo arrivati man mano che scendiamo vedrete sempre tutto in tempo reale quindi voi vedrete che abbiamo cominciato con 100 milioni quando sarà a ver quanto hai e tutte le volte che si vanno distribuendo vedrete quanto sembrano dentro dell'impresa perché è chiaro a tutti ragazzi una volta terminato possiede i gold coin payer adesso che è che tiene che star clara a todos che una vez terminato il deposito nella impresa sarà sempre chi lo possè a decidir si venderlos e a che condizioni e nota bene l'azienda non partecipa mai ad alcuna trattativa il suo ruolo di puro intermediario la impresa nunca partecipa in ninguna trattativa su ruolo ed pura mediazione intermediazione avrà una commissione su ogni vendita tendrà una commissione picca sopra cada transazione ma non comprerà né venderà mai un singolo gold coin player ma tendrà una forzantacca sopra il transato però nunca compra o nunca venderà gold coin nel mercato regole chiare e posizione ufficiale dell'azienda regola clara e posizione ufficiale da parte dell'impresa fino a fine settembre riceverete moltissime informazioni ma ad oggi sapete che l'asta ci sarà presto e preparatevi al delirio hasta finale di settembre vai a recebir moltissima informazione desde hoy però sabéis già che la subasta impiegherà pronto e preparaos al delirio delirio perché perché la gente capirà quanto valgono i gold coin lo capirà sarà lì sarà presente perché la persona capirà quanto valdranno i gold game coin player perché la gente ama vincere e per vincere deve avere la squadra migliore ovvero tanti gold coin player per comprarsi i giocatori perché la gente ama vencere e para vencere deve avere l'equipo migliore così che si vorrà comprare giocatori perché arriverà il momento in cui termineranno i gold coin distribuiti dall'azienda e l'unico modo per averli sarà comprarseli sul mercato da altri giocatori perché llegherà il momento in cui termineranno i gold coin distribuiti per l'impresa e l'unica maniera per riceverlo sarà andare nel mercato a comprarlo da chi lo possè i prezzi come andranno signori entonces signores los prezzi come iranno ve lascio imaginare os lo dejo alla vostra imaginazione sarà locura far 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 una verdadera locura ricordate sempre in modo chiaro importantissimo da un punto di vista legale ricordatevelo ricordate sempre di forma clara da un punto di vista legale golf football game è un gioco non una forma di investimento di nessun tipo golf football game è un juego non è ninguna forma di inversione di ninguna tipologia all'asta vengono trattati golf player che servono solo per comprare giocatori non comprare prodotti e alla subasta si van a trattar solo golf football game coin player che sirven solo para comprare un giocatore e nunca para comprare prodotto dell'e commerce l'azienda ha deciso apposta di tenersi fuori dal mercato per non lasciare pensare che segue i suoi interessi ma proprio per questo la impresa ha decidito di quedarse fuori totalmente al mercato proprio para che nadie pensa che tiene interesse nel mercato comprando e vendendo però por esso per proteggere una cosa di fondamentale importanza che è nostra chiunque si comporterà in modo inappropriato sarà bandito dall'accesso al nostro exchange punto chiunque si comporta di maniera inappropriata sarà eliminato di poter accedere al nostro exchange punto inappropriato è anche proporre l'exchange come investimento visto che l'azienda non prenderà mai un euro da alcun partecipante all'exchange mai visto che l'impresa nunca cobrerà dinero comprando o vendendo nell'exchange e io sono personalmente il più attento di tutti a parlare costantemente con legali per rendere questa cosa il più legale possibile io sono il primero interessato a parlare costantemente con l'os avogato per che questo tema sia il massimo della legalità però ragazzi se ce la gestiamo bene vi posso dire abbiamo ricchezza in mano però signores se la gestioniamo todos bien teniamo una ricchezza enorme in nuestras manos vediamo semplicemente la classifica dei vincitori del nostro golf football game non so Fulvio quanti gol compri hai accumulato fino ad oggi quanti ne hai lo scriverlo lo scriverlo Fulvio Oscar 22.000 22.000 22.000 a un centesimo valgono poco giusto a un euro quanto valgono 22.000 euro beh quanto ci hai messo ad accumulare questo capitale pulvio pulvio tre settimane giocando 22.000 lo ha eccio jugando algunas semanas e se valgieran un euro serian 22.000 euro jugando alberto 9.000 giocando 12.000 gaston 7.000 quanto ci avete messo 20 giorni di gioco di gioco quanto avete deciso 20 di gioco 3.000 soltanto 3.000 alberto negro 11.500 ma ditemi un po' dove pensate che andranno i gold coin players secondo voi a un euro a un euro pensate quello che volete io non vi faccio nessuna previsione pensate lo che cherei io non ho ninguna previsione certo posso pensare certo puedo pensare e se ogni giorno in tutto il mondo entrano persone con noi e che cada dia in tutto il mondo entrano persone a jugar con nosotros e hanno bisogno di gold coin player per poter giocare e vincere gold coin premium necessitano gold coin player per poter fugar posso solo pensare che avranno bisogno di comprarseli posso solo pensare che necessiteranno comprarseli ma se sono furbi entrano adesso però se sono listos entrano ora perché oggi come vedremo hanno una tabellina che gli dà il gol coin player anche in omaggio perché oggi tienen una tabla che come verrà le dan también gol coin player también gratis intanto vedono valore salire alla nostra asta a partire dal 1 ottobre mentre ranna ha empezzando desde 1 di ottobre il valore di gol coin player subir in nostra subasta giorno dopo giorno dia tras dia e signori non è ancora finito il webinar mi spiace sono ritardo 10 minuti di ritardo signori non abbiamo terminato il webinar lo sento tengo 10 minuti di retraso però non abbiamo ancora ho ancora qualche botta da darvi tengo a un alguno access in la manga para comunicaros la volete o me ne vado lo cherei sapere o me voi me voi lo cherei allora signori da qui al lancio dell'exchange un regalo non preannunciato es de hoy hasta lanzamiento exchange un regalo non preannunciato ma solo fino al lanzamento però ricordate esto valdrá solo hasta il lanzamiento allora punto 17 chiunque ragna può cambiare uno a uno il suo gold coin premium in gold coin pair todos los que quieran pueden cambiar todos los gold coin premium que han accumulado hasta al dia del lanzamiento convertirlo in gold football game coin player deberán inviar una comunicación oficial alla impresa ricordatelo hai che inviar una comunicación oficial alla impresa para serlo voglio una mail di ringraziamento ufficiale da Fulvio e tutti gli altri ragazzi sono stato io a battermi per questo chiero tambien una mail form ufficiale da Fulvio e todolo de mas perché Joe e luciado para consigli resto allora chissà signori se un sogno un giorno non diventerà realtà chissà che un sogno un dia non se haga realidad questo come vei segli è il schema della subita del bitcoin de lo che occorre del bitcoin come podéis ver per mucho tiempo si quedó agli tranquillito partì a un centesimo è arrivato a mille un centimo e llegó también a mille mille non centesimi mille dollari cento mila centesimi cento mila mille dollari son cien mil centimos bene ragazzi bien signores da oggi occorrerà quanto mai se fossi in voi ragazzi mi scatenerei perché incentiviamo al massimo i winning bonus desde hoy io correria come nunca hasta 31 12 perché vamos a incentivar al massimo il winning bonus e ora agarraos muy fuerte por esta gran novitad che ora si va a presentar perché da qui a fine anno soltanto ricordatevi fine anno soltanto quindi abbiamo quattro mesi settembre ottobre novembre dicembre siete pronti siete pronti e ho hasta al final dell'anno su un solo quattro mesi settembre ottobre novembre dicembre e stais preparados e stai preparados e winning bonus e winning bonus nuovo da dei livelli che sono nettamente inferiori ai precedenti da qui a fine anno per ottenere gol con per in regalo conseguitos 20.000 5.000 sono 1750 7.500 sono solo 2.000 10.000 sono solo 2.500 e quindi quando noi conseguiamo questo vamos a ricevere la misma quantità che tendríamos e se arriviamo a 20.000 una persona che tiene 20.000 debacco rispetto alla sua condizione recibe 10.000 gold coin in una settimana, ora ci tocca a noi come Red a creare, perché lo teniamo in nostra mano e tra 20 minuti in back office andate in back office e trovate tante informazioni in più e dentro di 20 minuti potete andare nel back office e trovate molti più informazioni ragazzi qui vi premete GoCompare in omaggio signore, a chi vai a recebir GoCompare gratis ricordarlo, sono gratis hai che apprezzarlo perché qui sta per diventare ricca la gente che ci ha creduto sin dall'inizio e questo io voglio che siano premati perché a chi se vanno a convertir ricco sullo che se vanno anche reido e io chiedo che questa persona che ha dato confianza sean premiada qua sta partendo qualcosa di clamoroso a chi si sta ponendo in marcia algo di clamoroso col sistema di lavoro e il nuovo prodotto voi potete sponsorizzare quanto volete quanto volete il sistema di trabaccio e con il prodotto voi potete patrocinar tutto lo che chiedeis fate entrare 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 tutto e basta ora la persona tiene che entrare 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 il juego già sta puoi da jugare puoi da divertirsi e che approvesce anche ora di massa il concambio il concambio da chi all'1 di ottubre in lugar del premium se uno chiede lo puoi da convertir a ora che vale lo 0-1 in gold coin player e per i leader dal 25 agosto al 30 di settembre c'è un premio di sponsorizzazione importantissimo per chi fa 5 personali 50 punti minimo ciascuno validi anche gli upgrade a 300 gol coin player per chi ne fa 10 ne ha 1000 e e questo è dedicato a gli leader los upgrade ne reciben 1000 1000 gold coin player ecco signori questo è tutto questi 19 punti sono stati il nostro mese di ferie ad agosto e ai signori questo è tutto questi 19 punti hanno stato il nostro mese di vacazioni in agosto vi posso dire solo una cosa i vostri prossimi webinar in lingua italiana martedì ore 21 formazione domani giovedì presentazione ore 21 sabato 19.30 formazione in spagna lunedì martedì lunedì e martedì 22 presentazioni e sabato le 17 formazioni in uruguay lunedì alle 22 presentazioni lunedì mercolese è un errore lì lunedì mercolese martesì un errore ok e in uruguay lunedì ore 22 presentazione e venerdì ore 22 presentazione lunedì prossimo all'ore 19.30 di nuovo ci sarò io con un webinar straordinario dedicato all'exchange e al sistema di lavoro lunedì ci vediamo e poi ci rivedremo lunedì 15 settembre per presentare la nostra campagna di marketing che farà felici tutti noi che farà felici tutti noi ma farà impazzire i nostri licenziatari però volverà locos nostri licenziatari perché con quello che hanno in mano in questo momento ragazzi c'è veramente da perdere la testa perché con lo che tiene in su mano in questo momento hai che di verità in lo che sei benissimo signori vi posso solo dire che con quanto abbiamo posso solo dire che con quanto teniamo in nostra mano e lo posso dire con certezza assoluta oggi assoluta posso dire oggi con segurità assoluta noi esplodiamo punto punto bene chi vuole un supremo con 100 fake tickets proceda arrivederci un supremo con 100 fake tickets proceda hasta luego allo prossimo webinar e al lunedì prossimo ciao 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 a tutti 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 ciao a tutti